Noi siamo partiti da giugno 2021 con la realizzazione del laboratorio che mi vanto di presentarlo come una delle migliori eccellenze a livello regionale. La produzione è una produzione molto consistente, chiaramente risente della variabilità delle prescrizioni cliniche, però viaggiamo già intorno ai 15-18 mila preparati all'anno. Eventi come quello che ci è capitato e soprattutto per l'emergenza che ci è capitata fortunatamente è stato un primo caso, ma questo ci ha dato la possibilità anche di testare l'efficacia dell'organizzazione a partire dai dottori dei miei colleghi e collaboratori Paolo Gagliardi e Noemi Pagnotta che conducono questa attività di produzione che tra l'altro è un'attività di produzione anche molto consistente. Ci sono voluti molti anni, ci ha avuto molto impegno, un investimento economico, un investimento in formazione dei professionisti e una dedizione anche dell'azienda e dei primari, soprattutto del dottor Ferrante, che ha portato alla creazione di questo laboratorio che ci permette di intervenire anche dove i farmaci tradizionali o dove non è possibile reperirli prontamente. E quindi è molto difficile mettere insieme tutto questo, però con orgoglio questa volta ci siamo riusciti noi all'altro di Frosinone. Grazie.